Fischi, urla e insulti. L'accoglienza riservata dai cittadini di Trebisaccia nel Cosentino al commissario della Sanità Massimo Scura sicuramente non è stata delle migliori e forse nemmeno la più diplomatica. Non a caso Scura è stato costretto ad andare via scortato dai carabinieri. C'è da dire però che anche il commissario non ha tenuto in particolar modo a cercare di mediare la sua posizione sull'ospedale cittadino pur sapendo nei giorni scorsi il vespaio di polemiche che aveva procurato. E così durante il consiglio comunale aperto che si è tenuto in piazza della Repubblica per discutere proprio della riapertura del nosocomio Scura ha scelto di intervenire ribadendo la sua posizione ossia che essendo il centro cosentino molto piccolo con meno di 10.000 abitanti la cittadina può fare a meno di una struttura ospedaliera. Giusto il tempo per scusarsi di avere definito la popolazione in una precedente occasione quattro gatti e poi il commissario ad acta è dovuto fuggire sotto scorta. Ad avere inasprito gli animi sicuramente il modo in cui Scura aveva liquidato la questione nei giorni scorsi invitando addirittura i cittadini a curarsi a Policoro, Taranto o Bari. Eppure c'è da dire che sull'apertura dell'ospedale Guido Chidichimo il consiglio di Stato si era espresso favorevolmente anche alla luce del fatto che nella stagione estiva Trebisacce raccoglie fino a 200.000 abitanti. Grazie. Grazie. Grazie.